Salve a tutti ragazzi e benvenuti a ZBG con questo nuovissimo video minecraft Oggi la nostra connessione sarà la nostra forza Marci Dovamo andare a potenziare la nostra connessione per diventare sempre più forti Perché mi picchi e mi guardi? Perché sono debole Adesso sei debole perché, guarda nella cesta, abbiamo la connessione assente, non abbiamo connessione Ok Dobbiamo andare a potenziarla E c'è di crafting nel libro immagino Ovvio, il libro della connessione di Topolino Bello E il primo passaggio è Connessione assente, 4 blocchi di cole e 4 lingotti di copper Quindi Marci, ma tu sei già partito Cioè, aspetta un secondo Non ho fatto niente ancora Allora, 3, 2, 1, si parte subito Allora, io inizio già prendo la cobblestone E mi tolgo questo piccone qua che non lo vuole vedere nessuno Beh, è la cosa più importante Solo la connessione può mettere nel kit base, quello di legno Perché poi la nostra connessione, ogni volta che la potenzieremo Ci dà oggetti potentissimi, Marci Ma io posso buttarla questa roba qua? La connessione assente? No, non la connessione assente E cosa vuoi buttare? L'accetta qua, il piccolo qua in pietra Se vuoi buttarlo puoi buttare Se tu vuoi buttarlo, buttalo pure È orribile, veramente Ma come ti sei permesso? Scusa, lo butto anche io allora Cioè, l'ho buttato Cioè, veramente lo so Ma proprio piccolo il legno Guarda che senza il piccolo il legno non puoi far niente La mia crafting questa Ridammela Grazie Mi hai rubato tutta la roba, lo sai? No, non ti ho rubato niente Hai tutto te Sei veramente un clavn Questo mi accusa C'è la caverna qua, Marci Ci serve Uh, il copper Ovviamente le cose I blocchi di coal I quattro blocchi di coal Non sono pochi Sono abbastanza tanti Abbiamo le cose già cotte Autosmelt al 100% Marci Sempre e comunque Beh, ormai ragazzi Noi non siamo più in grado di giocare senza autosmelt Esatto La fornace non vediamo mai più da Mamma, veramente D'anni Oh, io qua c'ho del copper Non mi ricordo quanti ne servivano Quattro di copper E quattro blocchi di coal Però io il coal non lo trovo Io coal ne ho trovato poco Poco Eh, mi sa che dobbiamo andare in una montagna Di solito in montagna c'è tanto coal, giusto? Allora io ho Ti dico Comunque non mi posso lamentare per adesso Della situazione che si sta generando Nei miei confronti Diciamo In realtà Mi vorrei lamentare anche tanto Perché non c'è niente Non c'è coal Tantissimo Lo giuro Io ne ho dodici Ne servono quattro per No Sì, quattro per nove Che fa trentasei Eh, loco Secondo te io ho dieci in matematica Marci Ho dieci in matematica Meglio che non vada avanti È vero È meglio che È meglio che non parlo Guarda che io in matematica sono bravissimo Marci Ne immagino Comunque Io posso già fare la prima connessione Anche la sto per fare Ho fatto quattro bocchili Non è vero Cosa? Non ci credo Ti spiace Marci Mi servono due coal Ho craftato la connessione molto scarsa Quindi se io ci clicco sopra Quindi se io ci clicco sopra Marci sono full pelle Con protection 2 Unbreaking 2 E ho una spada incantata Anche un piccone incantato di pietra Ok Direi che non è male Il piccone incantato di pietra cosa ti dà? Efficienza 3 Fortuna 1 Unbreaking 2 Quindi direi che non è male Buono Fatto anch'io Ora Connessione molto scarsa Clicco E ho Sì ok Allora Il prossimo Il secondo passaggio è Connessione molto scarsa Quattro blocchi di ferro E quattro log di OAC Ok Log è facile Io ho già preso Io no Quello non l'ho ancora preso invece L'ho preso prima Perché è mica Che Faccio dopo Hai fatto bene Ti sei portato avanti Bravo Marci Nella vita bisogna portarsi avanti Ma abbiamo anche fortuna Sì E fortuna funziona col ferro È certo che funziona Che bello Sta cosa che funzioni con fortuna È devastato Ah no Sì funziona Funziona È ovvio Ovvio 22 pezzi di ferro Io da uno Me ne ho uscito uno Andiamoci conto Ho pita Sto a crafting table Sono un pirla No qua niente Di nuovo di ferro Marci ho preso a crafting table Mi è caduto in un canyon Eh dai Se vuoi cita Tela se vuoi Non cito Perché il legno ce l'ho Io non cito Tanto fa poco Mi butto giù Ok Ne ho già trenta di ferro Io Trenta Trenta pezzi di ferro Che cavolo fai Deve ne ho già trenta Eh zio Perché c'è un botto di ferro qua Io lo prendo Eh so che c'è un botto di ferro Io ne ho tredici invece Tu ne hai trenta Io ne ho tredici E io tu sto morendo Io muoio Marci no La morte E qua muoio La morte No 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 Non l'ho messo anche Pimpinventure Ho trovato i diamanti Ho trovato Allora game rule Bravissimo Marci Pimpinventure True Mi serve assolutamente In questo preciso momento Ma sai che ho visto Che cosa che ci sono dei youtuber americani Che quando muoiono Risponde nello stesso posto Davvero Provo che sia una cosa bruttina Vero Allora già noi ci facilitiamo la vita Allora se la facilitiamo ancora di più Quello è un po' troppo esatto Eh se muori muori E ricominci da capo Trenta tre basta Io sono a trentacinque E mi hai distrutto Beh ne manca ancora uno Non esiste quel pezzo di ferro Io già trovo dei diamanti qua Eh quindi nel caso Eh ma puoi prenderlo ancora Sì ma magari con questa connessione nuova Potresti effettivamente Io la sto per craftare Allora anch'io E la blocchi di ferro Abbiamo detto Quattro blocchi di ferro Connesione molto scarsa E org log Connesione scarsa Adesso abbiamo due tacche Marci Sì abbiamo due tacche Vediamo un pochettino Vediamo cosa ci dà Uh Siamo full oro Marci Full oro E la Uh Fortuna tre Questo è buonissimo Allora cosa è che serve adesso Servono quattro blocchi di redstone E quattro blocchi di lapis Lazzolo Bene I lapis ce l'ho di fianco a me No non blocchi di lapis Lazzolo Quattro lapis Lazzolo c'è scritto Ah e basta Allora lo posso già fare Come già Come di già Scusa Ho di fianco a me i lapis Basta che mi diano quattro Ma che fortuna Uno con fortuna tre Un diamante con fortuna tre Solo Sì Uh Luca verniciola Io trovo creeper E basta Io Sono fortissimo Sono pazzesco Ma dove la trova la redstone Dov'è Allora la redstone dovrebbe trovarsi abbastanza facilmente No Che le sto trovando Ok là ce n'è una Per un amico Ma servirà ad andare nel nether Per dire Yes Yes Ovvio Però 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 Teoricamente La nostra connessione potrebbe aiutarci Ad andare nel nether Ti avviso Ok Interessante Io Marci sono chiuso Non so dove cavo io sia 25 di rete È incredibile sta cosa davvero Qua c'è dell'oro però No 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 Piccolo zombie No 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 Meno male per l'armatura d'oro No il creeper no Ma Marci Ma Cosa ci fai da qua? Cosa? Cioè 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 Siamo in una stessa caverna Cabolo non so dove tu sia Ma fa niente Sono dietro di te Marci Letteralmente Sono uscito Ho scavato un tunnel dietro di te Ciao Eh già preso tutto Qua mi dispaccio Sono anche le diamanti Arrivano a prendere Davvero No dai Cioè Non c'è più niente qua Non c'è più manco un minerale Tutto diserubato Tutto 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 Ok diamanti Trovata Trovata resto Buonissimo Buonissimo Hai tutto? Sì Forse ho visto Ho visto Non tutto per tutto Chiaramente Allora Blocchi di redson Sempre 4 giusto? Sì Ecco qua 4 1 2 3 4 Connessione E lapis Ed eccoci qua Connessione normale Vediamo cosa mi dà Wow 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 Così trovato Così trovato Con fortuna 5 Eh quello è bello Quello è molto bello Vediamo cosa mi chiedeva adesso Blocchi d'oro Quattro pezzi di quarzo Però posso andare nel nether Ah perché hai dato l'ossidiana Wow quanto è veloce Velocissimo sto piccola Io devo prendere quella Peslazuli E poi vengo anche da te Marci Così Nether Nether Uh il quarzo vicino qua Che fortuna Come sono normale Anche io Marci Ce l'ho Ho tutto Bello Bene direi Direi molto bene Vedo via un po' di roba Che non mi serve Questo via Questo via Questo via E' bello il nether E' brutto E' così 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 Allora servono Quanti quarzi A pezzi di quarzo E basta Sì pezzi qua Ma va bene allora Ma va bene allora Anche il finito Steel ci ha dato Cioè direi Nel Cile Supersonico Allora Adesso Se questi qui Ci danno il blocco Il cosino d'oro Ma sì Che mi danno il blocco Il Mamma mia Ragazzi Io sono in Ah no Non sono in un buco Ti sei Ciao Ciao Cosa ci fai qua Comunque Mi sa che ti sei pigliato I miei scarti Che ho buttato per terra Ma che schifo Ma dai Ma perché Quei non ho parole Ma dai Tocca tu E mi sa che lo che è morto No Per fortuna La mia amatura è molto forte Non mi sta facendo morire Quanto poterci ne abbiamo Protection X Non moriamo più Allora Allora Bro io te lo dico Vado con la next La next di già È già Connessione prossima Sì 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 Questa non ci voleva per niente Perché mi sa Mi manca loro Il quarzo Ma c'è qua il quarzo Questo è facile E poi connessione normale Ma scusa Ma roba in legno ci ho dato Ma c'è il gold Nader Ci dà direttamente il lingotto È certo Ma dimmelo subito Quattro blocchi di diamante E quattro enderai Ma stai scherzando Ma è molto difficile Devo dire Quattro blocchi di diamante Sono tantissimi zio Ma ci ti ho raggiunto Anche io Connessione buona Abbiamo finalmente Quattro tacche Cioè tre o quattro tacche Quattro tacche Quattro tacche Una spada in legno Con looting X E quella serve più che altro Per andare nella fortezza Esatto L'ultimo crafting Ma Eh sì E ci saranno Anche gli enderman Comunque Se trovassimo gli enderman Eh ma io Io cerco prima i diamanti Ah io cerco i primi diamanti Sì sì Vado prima con i diamanti Perché la situazione qua Potrebbe essere Non lo so Non lo so Perché se tu vieni Nella mia caverna Vuol dire che mi rubi i diamanti Eccolo sì Ma tanto basta scavare Il piccone Ci abbiamo Con efficienza X E fortuna X Quindi i diamanti Troviamo abbastanza facilmente Direi Oh Ho visto qualcosa È una fortezza Marci Ho trovato fortezza Ho trovato una fortezza Però il debito Oh C'è un enderman qua C'è così a caso C'è un enderman Ma che fortuna Da meno C'erano i diamanti Ti prego Perché sto c'erano Un enderman Con la spada In legno Ne ho cinque Ne ho cinque Non so Il colpo Tu amico mio Vieni qua Mi servono solamente Due blaze rod Giusto Mi ha dato Dieci blaze rod È vicino allo spawn Una fortezza Abbastanza Sì abbastanza Comunque Mi crafto subito I miei bellissimi Ender eye E poi Mi sa che mi battono Eh no Perché mi manca ancora I diamanti Adesso mi butto Nella lava Muoio E aspetto Di morire Semplicemente Ci vorrà un pochettino Marci Campeon Fortezza trovata Allora io dico Uncio mine shaft Qua buono Il mine shaft Io ho trovato I diamanti Erano vicino al nostro portale Però L'hai trovati tutti già Tutti 40 Serio Cavolo Erano vicini al nostro portale Neanche a dire Non è che a dirlo Ma che c'è qualche diamanti Anzi vicino al tuo portale Al mio portale Addirittura Infatti non so come Non li hai visti Sinceramente Eh sono Io so sfiato Marci Questa La mia Purtroppo la mia storia E così Un piccone 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 Ma è incredibile Stai 44 diamanti Allora mi devo killare Perché se mi kill Almeno ho la possibilità Di responare No 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 Ti raggiungo subito Adesso Allora Ender eye così Blocchi di diamante E connessione buona Diventa connessione Perfetta Dobbiamoci lo spazio Sono morto Benissimo Marci Full nederite Con un arco Con power 20 E anche Uno stack Di ender eye Sono tornato Marci Uh di qua Io ho un ender pearl Posso usarla per Avvicinarmi a te Però non ho tre Ah eh Tu sei messo meglio di me Allora Sei messo meglio di me Però vincerà Con lui che uccide il trago Per primo Marci No Il mio va ancora dritto Io sono a 800 Meno 1800 Ok Sono a 250 blocchi da te Quindi è anche troppo Spero sei un pochettino Più avanti rispetto a me te Eh Mi sa che l'ho trovato È trovato? Mi sa che potrei averlo trovato Potrei averlo trovato Ma è mezzo a ghiaccio oltre il ghiaccio? Io sono qua bloccato ancora Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Con Power 20 Non toglie niente 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 È qua È qua È qua Ah È scavato sta montagnetta T'è giusto? Io chiaramente sto distruggendo solo il Land Crystal E arriverai tu che avrai tutto pronto Non è vero Non ho visto a scalare la montagnetta Devo trovare il Chunk Dove È andato sotto È qua allora Si scava verso il basso Che il test era più o meno Marci? Non mi ricordo zio Non mi ricordo Come non ti ricordi? Quanti Ender Crystal ci sono? Dove cavolo è sto portale? Ho trovato Ok ho trovato La spy dove il portale Dove il portale Ma devo spaccare tutto Ho trovato il portale Marci Ho trovato il portale Sto io andando da te Ok sta scendendo Sto scendendo Vado con la freccia Non va bene questa cosa Veloce spawn Veloce loco Ma non gli è tolto ancora niente Marci Praticamente Gli struttori ho tutta la vita Io li darei l'ultimo E' ovvio che così Marci È sempre così No non è giusto Ok Poca vita No 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 Ma come? Ma come? No no Ma gliel'ho dato io infatti Io ho visto Dalla mia visuale Che le ho tirato io la freccia Ed è morto Incredibile Incredibile Ragazzi Marci mi ha battuto A quanto pare Marci Aveva una connessione Megliore della mia Difatti io abito In mezzo ai monti E quindi la mia connessione Fa un po' schifo Ragazzi Ciao Spero che questo video Vi sia piaciuto Grazie per si Non so parlare Scusatemi Grazie per si Non so parlare Grazie a tutti Per essere ci stati Fatemi sapere Se avete altri video del genere Ciao a tutti Ciao